ciao a tutti oggi prepareremo i cordon bleu di melanzane il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono melanzane tagliate a fette acqua sale prosciutto cotto scamorza farina di tipo 00 pangrattato aromatizzato olio e uova diamo il via alla ricetta abbiamo tagliato le melanzane a fette tonde spesse circa un centimetro mettere nel boccale l'acqua il sale chiudere con il coperchio senza il misurino posizionare il varoma chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti temperatura varoma velocità uno lasciare intiepidire mettere il sale nelle uova e sbatterle con porri cordon bleu prendere una fetta di melanzana mettere una fettina di prosciutto una di formaggio coprire con un'altra fetta di melanzana bagnarle nella farina nell'uovo e nel pangrattato e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno proseguire così con il resto delle melanzane irrorare con un filo d'olio cuocere in forno preriscaldata a 200 gradi per 25 30 minuti di cordon bleu di melanzane sono cotte impiattare servire cordon bleu di melanzane grazie e alla prossima ricetta ciao 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 Grazie a tutti.